Ciao ragazzi, sono l'assistente del signor Void, meglio chiamato come George. Ci dovremmo informarmi del fatto che il canale Discord... Porca p***a, Frank! Mi chiamo George, signore! Sì, sì, come vuoi, piuttosto, qui non funziona Discord! Signore, stavo giusto parlando di questo! Il server Discord è stato cambiato per alcune divergenze. Infatti, ecco a voi il nuovo link che trovate aggiornato nel banner, nella descrizione di questo video e qui in sovraimpressione. George! Arrivo, signore! Una volta che non spiegherò... Grazie a tutti!